Ciao ragazzi, siamo tornati! Vamos! Siete pronti ad iniziare questa nuova stagione? Vi abbiamo già preparato un sacco di workout per tutti i livelli, tra cui un workout super fighissimo da 60 minuti! Ragazzi, un'ora di allenamento, ok? Ce l'avete chiesto? L'abbiamo fatto! E inoltre un super workout ad altissima intensità che metterà alla prova anche gli atleti più in forma, tipo il nostro mitico Ruggero! Esatto, esatto! Quindi ragazzi, come sapete, a metà luglio è uscito il nuovo diario FixFit! Vi vogliamo ringraziare per i vostri commenti e email, grazie mille! È stato un lungo e truolavoro, ma sapere che vi è piaciuto e vi è utile così tanto ci ha già ripagato di tutti i nostri sforzi! Però ovviamente Katia non li vogliamo annoiare, non vogliamo annoiarvi con tutte queste spiegazioni, ma ve lo lasciamo provare! Sarà sicuramente molto più divertente, quindi vi facciamo solo una caralata veloce di tutto quello che potete fare! Allora, potete fare un sacco di cose! 1. Programmare i vostri allenamenti 2. Registrare le statistiche di allenamento e se avete un tracker potete farlo direttamente con le vostre calorie consumate 3. Misurare i vostri risultati di mese in mese con peso e centimetri 4. Confrontare le vostre foto 5. Stimare la percentuale di grasso corporeo il metabolismo basale e il fabbisogno calorico 5. Registrare altri sport oltre ai workout fix fit Oltre a queste novità troverete più di 40 programmi di allenamento completi da scegliere in base al vostro obiettivo e livello a disposizione Poi ci saranno 8 challenge da 21 giorni per tutti i livelli e difficoltà i nostri menu bilanciati e tantissime ricette con calorie e macronutrienti Vamos! Insomma ragazzi è veramente uno strumento a 360 gradi per raggiungere velocemente i vostri obiettivi Il diario fix fit sarà il vostro compagno di viaggio perfetto Il diario può essere utilizzato sia in versione gratuita quindi gratis sia in versione premium con tutte le funzionalità attive In entrambi i casi avrete un ottimo alleato per allenarvi alla grande Ma dov'è? Dov'è? Dov'è il nuovo diario? Allora Trovate il nuovo diario su www.fixfit.it Lo potete scaricare direttamente nel nostro sito come un'app e installare su qualsiasi dispositivo PC, Android o iOS Esatto! Nel menu trovate il pulsante installa l'app Lo premete e avete subito il vostro diario installato nel vostro dispositivo Vi ricordiamo l'indiritto per creare il diario su www.fixfit.it E ora passiamo ai nostri progetti per la nuova stagione Ok, andiamo subito! Che cosa faremo in questa nuova stagione? Finalmente il Pilates! Finalmente ragazzi! Credevamo di riuscire a farlo prima nella scorsa stagione ma l'app ci ha occupato tantissimo tantissimo tempo anche alla notte Ora che siamo liberi, entro fine anno o al massimo appena tornati dalle vacanze di Natale Troverete i nuovi workout Pilates Con il Pilates vogliamo ragazzi stupirvi Lo stiamo preparando con la massima cura Non demordete, arriverà prestissimo Seconda novità Saremo più presenti nella community del canale Vi aiuteremo a mantenere alta la motivazione E vi teremo super aggiornati su tutte le novità del mondo fixfit Terza novità? Qual è? La terza novità è ancora solo un'idea Ma già da febbraio ci lavoreremo Vogliamo inserire altre due nuove attività Quindi se avete dei consigli o volete qualcosa di specifico Faccelo sapere Un'attività derivata dalla Fitbox Molto dinamica e molto cardiovascolare Quindi principalmente cardiovascolare E un bel programma di dinastica dolce Un'ultima novità Prima di aprire questa fantastica stagione YouTube ci ha dato la possibilità di inserire l'abbonamento al Diario Premium Direttamente su YouTube Chi di voi utilizza già oppure sta pensando di utilizzare la versione Premium del nostro diario Potrà acquistarla direttamente qui su YouTube Cliccando sul pulsante abbonati che trovate direttamente qui sotto Ok Abbiamo detto tutto Abbiamo detto tutto Perfetto Siamo stati grandissimi Tiago Abbiamo iniziato a bomba Ragazzi Scusate se vi abbiamo parlato così tanto velocemente Ma le novità della nuova stagione sono tantissime Siamo stati prudenti di non farvi troppe promesse Quindi aspettatevi altre novità che però non ve le annunciamo Eh sì dobbiamo creare un po' di suspense Quindi ragazzi questa settimana riparte la classica programmazione Quindi si riparte con 5 nuovi video a settimana E ogni mese faremo un bel workout in diretta che ci piace tanto Ci alleniamo insieme Quindi continuate a seguirci con grande affetto come avete fatto fino ad oggi Un bacione e buon inizio stagione VAMOS Yeah Siamo diventati veloci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti